benvenuti a detto io sono sempre Valentina e lei è sempre Giorgia bene che facciamo oggi Giorgia? facciamo i uovi glitterati da mettere sull'albero di Pasqua vogliamo far vedere ai nostri amici come si preparano? sì bene cominciamo allora la prima fase è questa prendiamo le uova di polistirolo bianche completamente bianche e dobbiamo passare la colla vinilica sopra Giorgia aiutami ok passiamo la colla vinilica e di che colore lo vuoi fare? sì da tutte le parti di che colore lo vuoi fare tu l'uovo? rosa ok allora io arancio adesso passiamolo nei glitter ok passalo prima tu e poi lo passo io allora le nostre uova si sono asciugate e questo è il risultato finito adesso dobbiamo creare una fessura per poterle appendere al nostro albero di Pasqua vero Giorgia? sì ok adesso buchiamo il nostro uovo di polistirolo in questo modo bucalo anche tu piano piano aspetta ti aiuto piano piano ok basta ok bucate le uova facciamo passare attraverso questo buco i nastri colorati di raso per poterlo appendere al nostro alberello tieni Giorgia per te ed io lo faccio giallo ma non male che non si vede il buco allora però per far passare il nastro devi fare così guarda lo devi arrotolare un pochino però guarda me sempre con l'aiuto di questo di questo aggeggio di ferro ferro filato bravo possiamo aiutarci e farlo passare dall'altra parte guarda Giorgia così vedi e passa dall'altra parte guarda vedi ok una volta passato dall'altra parte facciamo un fiocchetto te lo faccio io proprio io e se non ci riesco mi aiuti eccolo qui ah bravissima bravissima fai un nodino sopra o un fiocco un nodo vedi tu che vuoi farci fiocco che mi ha messo troppo poco filo per fare il fiocco ecco qua e queste sono le nostre uova uova le nostre uova finite allora si possono fare le uova anche in altri modi Giorgia vero possiamo possiamo anche dipingerle le nostre uova e abbellirle con dei nastrini sempre di raso colorato e questo è il nostro alberello di Pasqua questo è il nostro albero di Pasqua buona Pasqua a tutti da me e Giorgia già soprattutto faccio da detto Fatto ok sera via 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 via